L'omicidio a Conegliano della 72enne Margherita Ceschin, due dei tre killer sarebbero partiti dalla Spagna per compiere il delitto per poi farne rientro oggi gli interrogatori degli arrestati tra cui il marito della vittima. Le figlie della vittima si rifiutano di incontrare il padre ottantenne rinchiuso in carcere con l'accusa di essere il mandante del delitto. L'anziano continua a minacciare il suicidio. Morta la 78enne trevigiana che a chi è sottottenuto dalla regione il suicidio assistito, farmaci e strumenti forniti dall'azienda sanitaria, è la prima volta in Italia. La vita è bella, ha detto prima di andarsene, ma solo se si è liberi. Mentre tutti guardano con preoccupazione all'allerta arancione di ramate in tutta la regione per l'arrivo di un nuovo fronte temporalesco, nelle zone già colpite si contano i danni. Altri 70 furbetti del reddito di cittadinanza intercettati dalla Guardia di Finanza di Treviso, tra loro una sessantenne di sarmele che usava i soldi per giocare da zardo online e in conto aveva 255 mila euro. Chiusi alle 17 termini per la presentazione delle offerte per la nuova sede della Questura, l'unica bus arrivata in prefettura è quella di Fondazione Cassamarca che ripropone l'attuale torre alla Piani. Lo storico paglio di Feltre sarà trasmesso in diretta da Antena 3 domenica 6 agosto a partire dalle 15.30, un tuffo nel passato del 400 Feltrino quando la città passò sotto il dominio di Venezia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque questi titoli di stasera avete sentito della nuova allerta meteo, allerta arancione prevista nelle prossime ore sulla nostra regione. Ebbene il sondaggio di questa sera avverte proprio sul tema maltempo, emergenza meteo, colpa dei cambiamenti climatici. Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere, sì 04221626691. Se la vostra risposta è no, il numero è 04221626690. La chiamata è gratuita all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. In primo piano naturalmente l'omicidio Ceskin, due dei tre killer sarebbero partiti appositamente dalla Spagna per compiere il delito, per poi farvi rientro. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura, proseguono senza sosta, mentre in mattinata si sono svolti gli interrogatori di garanzia delle persone arrestate, tra cui il marito della vittima. Restano tutti in carcere, così ha deciso il GIP. Non passa minuto senza che gli inquirenti non aggiungano una tessera al puzzle criminale che ha portato la morte di Margherita Ceskin, la 72enne trovata morta nella sua casa a Conegliano il 24 giugno scorso e che sarebbe stata uccisa da tre killer. Un omicidio commissionato, questa l'ipotesi, dal marito Enzo Lorenzon, 79 anni, e dall'attuale compagna di origini dominicane, con l'intermediazione di altre due persone, sette in tutto quindi soggetti coinvolti, quattro di questi in carcere, tra cui lo stesso Lorenzon. Ora si tratta di chiudere il cerchio con le intercettazioni telefoniche che indicano una traiettoria ben precisa, ovvero la Spagna è qui nella penisola iberica che si troverebbero due dei tre esecutori materiali del delitto che sarebbero venuti in Italia appositamente per colpire nell'appartamento di via 28 Aprile. Le autorità italiane già si stanno muovendo con i parigrado spagnoli in modo da evitare ulteriori fughe. E proprio il pericolo di fuga dei presunti colpevoli aveva convinto sabato mattina all'albe i carabinieri coordinati dalla procura a effettuare il blitz tra Ponte di Piave, Treviso e San Biagio di Callalta. Nella cascina di Negrisia in particolare si trovavano Enzo Lorenzon e Di Lazy Guzman. La colf è diventata compagna di 50 anni più giovane e tra i motivi della separazione con Margherita. Sarebbero loro la mente accanto a due intermediari, un'altra donna dominicana, indagata ma a piede libero, e Juan Maria Guzman, 41 anni, prelevato dalla sua abitazione di Treviso. Poco distante, a Olmi di San Biagio di Callalta, l'arresto di Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 38 anni, cugino di Di Lazy e ritenuto esecutore materiale. Tutti nell'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tutti però resteranno in carcere, come deciso nel pomeriggio, dal GIP di Treviso, Marco Biagetti. Provvederò immediatamente a depositare istanza al Tribunale del Riesame, perché ritengo di avere la necessità di sottoporre al vaglio del giudice del Riesame di Venezia, il Tribunale Collegiale del Riesame, tutta la documentazione, che ovviamente abbiamo interesse anche noi ad acquisire nei termini più brevi. Quindi è qualcosa che farò nell'immediatezza. Mentre la 32enne resta nella sezione femminile del carcere e della giudeca, i tre uomini, Lorenzo compreso, che sono a Santa Bona, potrebbero essere soggetti a dei trasferimenti. È presumibile, rimanendo il divieto d'incontro, che qualcuno venga trasferito in altro istituto penitenziario. Enzo Lorenzo dunque resta in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio della moglie. Le figlie non lo stanno cercando, dice l'avvocato dell'uomo. Sullo sfondo una separazione difficilissima. Sì, lui l'ha ribadito, ha detto, io la faccio finita sostanzialmente. Io la faccio finita, io qua non ce la faccio più. Questa storia mi sta ammazzando, insomma. E ha rivolto un pensiero alla sua compagna? Beh, oggi, come ieri, è molto preoccupato per le condizioni e la signora anche, sì. Ha sentito le figlie per caso che lei sappia? No, 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 le figlie non vogliono avere a che fare col padre in questo momento. C'è anche questo risvolto umano e familiare nel caso di Margherita Ceskin, a riferirlo all'uscita del carcere di Santa Bona, l'avvocato di Enzo Lorenzon, il 79enne accusato di aver organizzato il delitto della moglie accanto all'attuale compagna di Lacey Guzman. È a quest'ultima che l'uomo pensa con preoccupazione, confermando l'intenzione di farla finita. Proprio la relazione con di Lacey sarebbe stata la causa della fine del matrimonio con Margherita, a cui Lorenzon corrispondeva un assegno mensile di 10.000 euro, una separazione difficilissima, quella tra i due, fatta di tante tensioni, sfociate anche in denunce, alcune delle quali poi ritirate. I rapporti a me risultava che ci fossero delle frequentazioni per quanto non intensissime, per cui che ci fossero un po' rade, ma insomma che ci fossero. Il collega delle figlie invece mi dice che rapporti ce n'erano molto pochi e tesi. L'avvocato di Lorenzon aveva chiesto al GIP una misura di custodia cautelare, differente dal carcere, viste le sue condizioni di salute, ma l'uomo resta a Santa Bona. Di una vicenda complessa parla lo stesso GIP nell'ordinanza, che rileva la necessità di esaminare e riportare compiutamente tutti gli atti. Esattamente un mese di indagini serrate da quel maledetto, 24 giugno. Ultima pagina parliamo della vicenda della 78enne trevigiana Gloria, nome di fantasia, prima veneta ad essere morta con il suicidio assistito e con medicinale e strumenti forniti dall'azienda sanitaria. Si è spenta ieri mattina alle 10.25 nella sua abitazione. La vita è bella, ma solo se siamo liberi e io lo sono stata fino alla fine. Grazie. Si è congedata così Gloria, la 78enne trevigiana malata oncologica, prima cittadina veneta a morire praticando il suicidio assistito. Di caso storico parla il medico che era con lei, Mario Riccio, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. Gloria è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria reso legale dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sul caso Cappato Antoniani, ma è anche la prima persona ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria. Dall'Ulss2, marca trevigiana, solo poche righe. Riteniamo doveroso il massimo rispetto della privacy della persona e della famiglia a cui vanno le nostre più sentite condoglianze, per cui non forniremo informazioni. Ma di fatto il Veneto ha deciso di ottemperare la sentenza e di questo l'associazione Coscioni è riconoscente. Non c'è stato bisogno per la prima volta in Italia di ricorrere ai tribunali per ottenere una risposta alla richiesta della signora Gloria. Il fatto che l'aiuto sia arrivato nella regione presieduta da Luca Zaia della Lega dimostra che su questo tema non valgono i recinti dei partiti e delle coalizioni conta la sensibilità nei confronti delle persone che soffrono e delle loro scelte. E sempre il Veneto ha accolto la richiesta di intraprendere la medesima procedura per il vicentino Stefano Geller che ha però deciso di attendere e che sui social ha scritto Buon viaggio Gloria, hai ottenuto e fatto ciò che volevi ed è giusto così. Non è un problema di morte, è un problema di qualità della vita perché per noi questo è l'elemento fondamentale. Noi non siamo quelli della morte, noi siamo quelli della qualità della vita e la qualità della vita è anche la qualità del fine vita. Sbarra torna a invitare il Consiglio regionale a legiferare per dare una tempistica certa per rispondere alle richieste dei malati come Gloria, i cui familiari hanno compreso e le sono rimasti accanto. Suo marito gli ha tenuto la mano fino all'ultimo momento, i familiari erano in casa e lei ha dato anche serenità a tutti ribadendo la sua scelta fino all'ultimo. Suicidi assistito, argomento delicato e quanto mai dibattuto. Su una cosa tutti sembrano d'accordo va normato a livello nazionale. La notizia è arrivata nelle ultime ore sollevando profonde riflessioni non tanto sul diritto di scelta ma sulla questione che dovrebbe essere normato a livello nazionale. E ancora, nonostante tutto, non è così. Il Veneto è la prima regione d'Italia ad aver raggiunto e poi depositato la soglia delle firme necessarie per poter portare la proposta di legge regionale sul suicidio assistito in Consiglio regionale. Ora stanno raccogliendo le firme anche altre regioni italiane. È un tema che va affrontato con delicatezza e rispetto, commenta subito Alberto Villanova, capogruppo della legge in Consiglio regionale. Io personalmente credo nella libertà e credo anche nella libertà di mettere fine alla sofferenza se una persona decide di farlo anche in questo modo. In Consiglio regionale abbiamo votato una mozione qualche tempo fa proprio su questo tema, una mozione che arrivava dall'opposizione e io ho lasciato libertà di scelta ai miei consiglieri proprio perché secondo me su temi etici come questo, temi molto delicati, non si può dare un ordine di partito, non si può essere un'imposizione. La politica, dice Villanova, deve fare un passo indietro, deve essere messo in primo piano la sensibilità di ogni persona. Ma devono esserci regole chiare, termina e una linea comune per tutte le regioni. Ne è convinta anche Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico, che sottolinea come sia un diritto in Italia ma non definito sulla base di una legge nazionale. Siamo di fronte ad una battaglia di civiltà per il nostro paese rispetto alla quale c'è una latitanza del Parlamento nazionale molto grave. C'è stata una proposta di legge che nella scorsa legislatura è stata approvata in prima lettura alla Camera ed è sostanzialmente morta al Senato. C'è un disegno di legge, un progetto di legge depositato alla Camera dal Partito Democratico che altro non fa che acquisire le disposizioni della sentenza della Corte e tradurle in legge nazionale. Io credo che sia inumano che a queste persone si è garantito questo diritto solo attraverso la sentenza di una Corte. La nostra regione, spiega Erika Baldin, consigliere del Movimento 5 Stelle, è all'avanguardia su questi temi del fine vita. Perché la mozione Geller, diciamo, che avevo presentato e è stata approvata appunto il 3 maggio scorso, non all'unanimità ma quasi, ha comunque connotato la nostra regione come una regione all'avanguardia. Sostanzialmente chiedeva il rispetto della dignità della persona, tempi celeri ed effettivi. È una procedura semplice per arrivare alla fine vita. È un diritto, questo termina, che in altri paesi è già effettivo. Il nostro, in tema di diritte, è ancora retrato, termina la Baldin. C'è chi non aveva dichiarato vincita ai giochi online, chi ha mentito sulla propria residenza. Alcuni degli elementi emersi dall'operazione della Guardia di Finanza di Treviso a seguito di un'ispezione sui requisiti presentati da chi percepisce il reddito di cittadinanza. Aveva vinto con gioco online la bellezza di 255.000 euro, ma nonostante questo ha percepito indebitamente 18.500 euro di reddito di cittadinanza. È solo uno dei 70 casi scoperti dagli uomini della Guardia di Finanza di percezione indebita della misura di sostegno. Tra le altre violazioni maggiormente riscontrate c'è quella della mancanza del requisito di residenza, ma anche dichiarazioni false su redditi e in alcuni casi correlati anche a vincite conseguiti con il gioco online. L'omessa comunicazione di vincite su conti da gioco, per esempio derivanti da attività di scommesse, piuttosto che partecipazione a tornei di poker, che di fatto avrebbero fatto venire meno le condizioni illegittimanti per la continuazione della corrispondizione del beneficio. L'operazione è stata messa a segno dalla Guardia di Finanza con la collaborazione dell'Inps e del Nucleo Speciale Spesa Pubblica ed i risultati non sono mancati. Tutte queste posizioni, 70, sono state prontamente segnalate all'Inps per l'interruzione della fruizione del contributo e ovviamente per l'avvio delle relative pratiche finalizzate al recupero dei 440.000 euro, sin qui indebitamente per cedividi. Somma che quindi dovrà essere restituita. Tutti i soggetti coinvolti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica e incorrono in pene che vanno da 1 a 3 anni di reclusione. Erano da poco passate le 13 quando poco distante dall'ufficio postale di Badoere è stato notato un pacco sospetto. Subito allertati i carabinieri della compagnia di Treviso sono intervenuti sul posto per i dovuti accertamenti. L'allarme è stato lanciato proprio dai dipendenti dell'ufficio postale che ha chiuso 15 minuti di anticipo per consentire agli artificieri di intervenire. Esaminato l'oggetto, gli specialisti non hanno potuto che constatare la sua inoffensività. Il pacco era infatti un'innocua borsa a frigo che conteneva alcune bottiglie d'acqua. L'allarme dunque è rientrato in poco tempo. Durante l'ispezione la zona è stata interdetta e chiusa al passaggio dei residenti. Dunque è scattata l'allerta per le prossime 24 ore. Vedete anche il sondaggio inerente proprio all'emergenza meteo. Tra questa sera e domani sono previsti temporali intensi con grandi natte e forti raffiche di vento. Suoni di marca ha spostato e annullato la serata di questa sera dopo l'allerta della protezione civile. Temperature altissime e fenomeni altrettanto intensi. È quello che sta accadendo in queste ore e che è già avvenuto nei giorni scorsi. La protezione civile lo ha annunciato e allerta arancione. Da questa sera sono attese fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi associati a forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'attenzione deve essere massima soprattutto per chi si mette alla guida delle auto. A creare questi fenomeni che ormai a malincuori ci stiamo abituando a vedere è il caldo torrido. Questa fase volge al termine ma darà ancora qualche problema. D'altronde il calore è talmente forte, quindi l'energia è talmente forte associata a un alto tasso di umidità, creano le condizioni di polvere da sparo, di gas che poi viene acceso da un impulso di aria instabile. Quello che succederà poi nelle prossime ore. La nostra provincia, come tutta la regione, è già stata colpita da tempeste che hanno davvero messo in ginocchio non solo aziende, agricoltori, ma cittadini e le prese con grandinate e vere e proprie raffiche di vento violentissimo che hanno devastato zone intere. I temporali si sono già presentati in queste ore ma potrebbero intensificarsi nella notte. Da noi invece pian pianino arrivano degli impulsi di aria instabile, addirittura un sistema perturbato nelle prossime ore e questo innescherà, come dicevo qui, innescherà un po' questo problema di temporali anche intensi. Naturalmente da questa sera, soprattutto giustamente come è il comunicato della protezione civile sui rilievi e poi si espanderà in pianura. Tra domani sera e dopo domani il fenomeno si dovrebbe esaurire con temperature che torneranno al di sotto dei 30 gradi e diminuirà anche l'umidità che ha attanagliato la nostra regione per tutto questo mese. 24 ore, ha spiegato il generale Giannicelli, e poi ci sarà un'inversione di marcia. E Amiane, catena di solidarietà per aiutare un anziano che rischiava di rimanere senza ossigeno a causa del blackout che ha colpito il paese proprio a causa del maltempo. Nel discorso, a Amiane, c'è stato il maltempo ed è seguito un blackout. Nel pomeriggio sono stata raggiunta da una chiamata di un signore che necessitava della corrente per poter respirare. Un blackout che poteva avere conseguenze gravissime dato che la bombola d'ossigeno del signore è rimasto senza corrente e aveva solo mezz'ora di autonomia. Dopo la chiamata all'assessora Colmellere è subito partita la gara di solidarietà. Subito è partita un'azione comune, sinergica dell'Enel, del 118, della protezione civile, dell'amministrazione comunale con il sindaco e tutti insieme abbiamo lavorato per dare una risposta concreta a questa richiesta d'aiuto e di bisogno. E grazie alle associazioni e istituzioni che si sono prodigate l'elettricità è tornata in poco tempo nella casa del signore che ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno salvato la vita. Catene di solidarietà come questa, commenta l'assessora Colmellere, sono capaci di scaldare il cuore in un momento che per tanti di noi è stato complesso. Un sentito ringraziamento a chi ha lavorato per l'anziano anche da parte del sindaco. Ringrazio Enel, il 118 e il gruppo locale di protezione civile che sono prontamente intervenuti e hanno fatto sì che la situazione si risolvesse per il meglio. Sicurezza in piazza Borsa dopo l'aggressione al presidente di Union Camere Veneto Pozza ed episodi di risse e violenze, dalla politica all'analisi sulle possibili soluzioni. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, una rissa sabato pomeriggio con una persona rimasta lievemente ferita. Solo il giorno prima ad essere minacciato, il presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza, che è uscito dagli uffici di Via Fiumicelli, aveva chiesto ad un gruppo di sbandati di lasciarlo passare. Per tutta risposta, uno di loro li si era avvicinato brandendo una bottiglia, intimandogli di consegnare il cellulare. Pozza a quel punto era scappato in un bar da dove aveva chiamato i carabinieri. Ma sempre più spesso, quell'area del centro è scenario di episodi di violenza, ma per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Campora ha sbagliato parlare di un problema sicurezza a Treviso, visto che si tratta di un'area limitata della città, dove si sta intervenendo, spiega, con presidio e sistema di videosorveglianza. Un problema, come ho dichiarato anche più volte, è da risolvere in concerto con tutte le istituzioni, quindi non solo la polizia locale. Non si può puntare il dito sulla polizia locale che deve risolvere tutto, e poi però si va a scoprire che non ha neanche i mezzi per poterlo fare. Per esempio, la polizia locale non si sa, ma non ha accesso a una banca dati del Ministero dell'Interno. Per il capogruppo di futura azione Italia Viva Rocco si deve intervenire su più fronti dalle ordinanze del sindaco ad interventi depressivi che devono però andare di pari passo con azioni di riqualificazione. Servirebbe anche un presidio fisso. Certo, è vero che il presidio fisso ha il limite che poi magari le persone, diciamo così, che creano disagio si spostano, però in questo momento la zona da attenzionare è quella, è quel quadrante, quindi sicuramente serve un presidio fisso. Poi oggettivamente probabilmente serve anche un investimento per cercare di rivitalizzare l'area. La vicepresidente del Consiglio Comunale Antonella Tocchetto annuncia che nella prima assemblea dopo la pausa estiva a settembre il gruppo del PD presenterà un progetto di aiuto sociale perché spiega la repressione non sta portando agli effetti attesi. È necessario quindi intervenire sulla prevenzione con operatori di strada. Possono intervenire sia per quei ragazzi che sono più sbandati di altri perché magari hanno situazioni familiari molto difficili e magari molto gravi, ma si può trovare anche una forma di recupero con lavori socialmente utili, ad esempio. Tutte queste persone che possono in qualche modo cercare di intanto disgregare il gruppo. Ci fermiamo per la pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Quella di Fondazione Cassamarca è stata l'unica bus arrivata dopo l'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato qualche settimana fa dalla Prefettura per reperire un nuovo immobile che ospiti la questura di Treviso. Il termine ultimo è scaduto alle 17 di oggi. Alla fine dunque Fondazione Cassamarca ha sciolto le riserve presentando l'offerta, l'unica pervenuta, che ripropone l'attuale torre alla Piani. Bisognerà ora attendere le valutazioni della Prefettura. Si è spenta la scorsa notte nel sonno della sua abitazione di Castagnole di Paese. Gina Bruttoca aveva compiuto 100 anni lo scorso primo giugno. Amici e familiari l'avevano festeggiata con una grande giornata, prima con una messa, poi il pranzo. Nata a Padernella, aveva conosciuto in fabbrica il marito nazareno, l'amore della sua vita, con il quale aveva condiviso difficoltà e le gioie come la nascita dei figli. Quel giorno ci aveva raccontato delle sue passioni per la lettura e la pittura. Ieri aveva pranzato con figli, nipoti e pronipoti. La sera era andata a letto dove si è spenta serenamente nel sonno. Mercoledì alle 15 nella chiesa di Castagnole, i funerali. E adesso apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. La strage di Santo Stefano in primo piano, Angelica Utter, è tornata in carcere. Da qualche giorno la 32enne accusata di omicidio stradale plurimo ha lasciato il reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia dove era stata ricoverata per accertamenti e dove è stata sottoposta a cure farmacologiche. L'interrogatorio di garanzia della scorsa settimana la giovane si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Non è decaduta ma non è nemmeno stata modificata la misura cautelare con la quale è stato disposto il carcere per Angelica Utter. Dopo un ricovero di poco più di 10 giorni nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia la giovane automobilista tedesca accusata di omicidio stradale plurimo è tornata in cella nel carcere femminile della Giudecca e lì resterà, non è chiaro ancora per quanto, per il pericolo di reiterazione del reato e di fuga. La 32N era la guida dell'Audi A3 intestata al padre quando lo scorso 6 luglio investì, uccidendoli praticamente sul colpo, il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin. Quella macchina era la sua casa da quando nell'ottobre dell'anno scorso l'aveva riempita di beni di prima necessità prima di partire per un viaggio nel sud Europa. La stampa tedesca fa coincidere la decisione di intraprendere il viaggio con l'irruzione della polizia nell'abitazione dei genitori una settimana prima della partenza. Sconosciuti i motivi della perquisizione domiciliare a Deggendorf che però sarebbero stati oggetto di un acceso diverbio fra Angelica Hütter e i genitori. In Italia la giovane viene denunciata dalla polizia di Bolzano per oltraggio a pubblico ufficiale per possesso di oggetti atti a offendere. In un negozio Angelica discute animatamente con un commesso che richiede l'intervento della forza pubblica. Alla vista della polizia la giovane ha una reazione scomposta, viene perquisita e dallo zaino salta fuori un martello. La denuncia è a piede libero, quindi la 32enne riprende il suo viaggio. In Comelico le telecamere riprendono la sua auto in due distinti momenti ravvicinati nel tempo. Nel primo la si vede ferma una fontana a riempire bottiglie d'acqua. Ad un certo punto la giovane chiude con una certa forza le portiere dell'auto sulla quale risale compiendo una pericolosa inversione a due, in seguito alla quale rischia di andare a sbattere contro l'auto di una donna che sta uscendo da un passo carrabile. Pochi minuti dopo la seconda telecamera riprende l'auto sfrecciare in via Udine all'altezza dell'incrocio per la frazione di Campolongo. Poi un doppio frastuono indica il momento esatto dell'impatto. Cosa, come e perché si sia compiuta quella strage al momento restano interrogativi senza risposta. Le famiglie Antoniello e Potente hanno chiesto la tregua mediatica, idem la difesa di Angelica Hütter rappresentata dall'avvocato Giuseppe Triolo del foro di Belluno. Al lavoro i consulenti tecnici per le perizie le cui risultanze non saranno pronte prima della fine dell'estate. Tra elicotteri Falco 1 e Falco 2, oltre al velivolo dell'Air Service Center e 19 soccorritori, uno spiegamento di forze per un intervento impegnativo in marmolada per portare aiuto a due rocciatori francesi bloccati sotto Punta Rocca a oltre 3.300 metri di altitudine. Le fortissime raffiche di vento hanno impedito i tentativi di avvicinamento alla parete di Falco 1 e Falco 2, sicché i soccorritori del soccorso alpino e della Guardia di Finanza di Cortina hanno dovuto raggiungere prima in funivia, poi a piedi, il punto esatto per la calata in parete. La centrale del 118 è stata allertata questa mattina dai due alpinisti francesi che già ieri erano stati bloccati in parete a causa della roccia bagnata. Trascorsa la notte in bivaco, questa mattina la coppia di fronte alle difficoltà oggettivo si è fermata e ha chiesto aiuto. Impreditori locali e internazionali avrebbero costituito la società Nevegalla 365 SRL per dare vita ad un ambizioso progetto di investimento sul colle nel settore della ricettività. Il condizionale d'obbligo, visto che ad oggi della nuova società di capitali non si sa molto di più. Oltre alla denominazione che viene riportata nel testo della lettera d'intenti deliberata dalla giunta comunale di Belluno lo scorso 13 luglio in cui le parti concordano di proseguire il lavoro avviato nei mesi scorsi in ordine a investimento e sviluppo del Nevegall in tutti i settori di interesse. Risultati, investimenti programmati, informazioni, tutto top secret, riservato, non divulgabile. È fatta eccezione per lo schema della lettera d'intenti non vincolante che in quanto parte integrante di una delibera di giunta è consultabile all'albo pretorio del comune di Belluno. Il futuro del Nevegall sulla carta erosio e la svolta per la stazione sciistica che potrebbe chiamarsi Schia Area 365 definita con la prossima acquisizione pubblica degli impianti sarebbe vicina. C'è un mix di soggetti che sono interessati al settore della recettività alberghiera. Sono dei soggetti che vogliono investire dei soldi in questo amato colle e vogliono ovviamente sviluppare una recettività che è diversa. Ricettività turistica, impiantistica aerea, nevamento artificiale ma anche riabilitazione sanitaria specialistica e polo attrattivo per le specializzazioni universitarie di alto livello. Nevegall 365 SRL, la denominazione della società di capitali ad oggi non iscritta a registro delle imprese dovrebbe essere costituita da imprenditori locali e internazionali tra questi gli algerini che lo scorso autunno e poco più di un mese fa hanno presentato al sindaco De Pellegrini e all'assessore Erocon importanti strategie di sviluppo. Quanto siamo certi di questo? Non lo so dire nel senso che questo frangente ci è stato chiesto di affiancarli in questa operazione così importante per noi e amministitivamente abbiamo fatto questo passo negli otto mesi abbiamo potuto verificare i soggetti chi sono, chi non sono, anche in aiuto con la prefettura con l'Interpol, con tutta una serie di operazioni che abbiamo voluto portare avanti questo per essere sicuri di chi avevamo davanti. Istituzionalmente oggi il compito di Palazzo Rosso si ferma alla lettera di intenti in attesa che la Nevegal 365 SRL rappresentata a novembre anche della direzione finanziaria di fondi di investimento nel settore turistico diventi a tutti gli effetti operativa nel frattempo oggi sono scaduti i termini della gara per il rifacimento del piazzale sta arrivando a conclusione il lavoro per la realizzazione del laghetto artificiale dopodiché davanti agli occhi di tutti restano i sentieri da sfalciare e la seggiovia ferma in piena estate la proprietà degli impianti è ancora di Nevegal 2021 e la gara non si è ancora ufficialmente conclusa è in dubbio che ormai loro sono gli aggiudicatari e stiamo facendo le verifiche in questi giorni però anche questa si incognita è in dubbio che è un po' di colpa diciamo siamo arrivati lunghi sulla gara ma è stata determinata per una serie di circostanze che non sto qui certo ad elencare però siamo nei tempi e nelle cose che dovremo fare la volontà del comune è di andare avanti non c'è dubbio un'interrogazione sull'operazione in corso per il rilancio del Nevegale è stata presentata dal consigliere di Insieme per Belluno Bene Comune Francesco Rasera Berna e sarà probabilmente all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà lunedì alle 15.30 nella medesima riunione la capogruppo Lucia Olivotto attenderà risposta puntuale all'interrogazione depositata oggi per sapere se il comune di Belluno intende costituirsi in appello a difesa dell'ente dopo la condanna della Corte dei Conti di Venezia per il danno da oltre 400.000 euro causato dalla società sportivamente Belluno dall'ex sindaco Prade e l'ex assessora Martire e dagli ex amministratori Benvenu e da POS talune delle parti socconventi hanno impugnato la condanna alla Corte dei Conti di Roma lo storico Palio di Feltre sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 domenica 6 agosto a partire dalle 15.30 un tuffo nel passato del 400 Feltrino quando la città passò sotto il dominio di Venezia domenica 6 agosto in diretta su Antenna 3 tutte le emozioni del Palio di Feltre la manifestazione che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano Feltre compie un salto indietro nel tempo ricreando il clima quattrocentesco con i cortei dei quartieri la gara del tiro con l'arco e alla fune una storia lunga secoli che culminerà con l'attesa e decisiva corsa dei cavalli la grande sfida del Palio storia e tradizione dei Feltrini domenica 6 agosto dalle 15.30 in diretta su Antenna 3 è davvero tutto vi lascio le previsioni del tempo grazie per essere con noi buona serata Entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura ben trovati al meteo il contrasto fra l'area anticiclonica molto calda e aria più fresca sull'Europa centrale determina una situazione di instabilità anche molto marcata e sarà così anche per la giornata di martedì 25 luglio vediamo allora insieme il dettaglio sul Veneto nuvolosità diffusa alternata a temporane e schiarite ma avremo temporali che bagneranno la nostra regione con fenomeni che potranno essere intermittenti anche intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento dunque attenzione temperature in calo minime tra 16 e 18 gradi massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso cielo a tratti nuvoloso a tratti soleggiato a più riprese durante il corso della giornata saranno probabili rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità temperature minime tra 17 e 21 gradi massime sui 29 31 gradi all'incirca infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove il tempo rimarrà alquanto instabile con sole e rovesci anche temporaleschi temperature minime intorno ai 16 17 gradi massime sui 32 gradi all'incirca dal meteo di Antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci al prossimo aggiornamento busti, tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria L'Olato Atreviso e Montebelluna L'Olato soluzioni per star bene L'Olato tra L'Oltima Grazie a tutti.